seconda presentazione all'ustra nel convento di san francesco del libro del dottor andrea ricci biologo nutrizionista la dieta del benessere edito da gpe gianni petrizzo editore che insieme alla coautrice robert anillo il primo agosto scorso hanno presentato al pubblico l'interessante manuale con 50 ricette corredate da fotografie valori nutrizionali e tanto altro un testo che vale la pena leggere da avere sempre a portata di mano in casa domani sera 4 agosto invece i giovani autori saranno ad ogliastro cilento alle ore 19 e 30 per riproporre il testo la scrittrice inglese virginia wolf una volta disse uno non può pensare bene amare bene dormire bene se non ha mangiato bene già ma cosa vuol dire mangiare bene è questo l'interrogativo che l'autore pone ai lettori e che nel testo propone 50 alimenti più comunemente utilizzati nella cucina di tutti i giorni non solo attraverso le loro proprietà nutrizionali ma corredati da altrettante gustose ricette di robert anillo una guida indispensabile per fare ogni giorno scelte sane ed equilibrate per il proprio benessere e dare risposta alla fatidica domanda cosa devo mangiare